Avevano messo a segno un numero impressionante di rapina a mano armata tra la piana di Gioia Tauro e la Locride. Negozi di abbigliamento, gioiellerie, ristoranti, tabacchini, erano il bersaglio preferito degli otto rapinatori, i quali per incrementare i loro profitti illeciti, parte dei proventi delle rapine venivano reinvestiti nell'acquisto di droga per poi spacciarla. Lo scorso anno l'arresto dei carabinieri della compagnia di Taurianova, con il supporto del reparto e li portato cacciatori di Vibo Valencia, coordinati dalla procura di Palmi. L'operazione Green Gold, così è stata chiamata dagli inquirenti, ha sgominato la banda. Ora sono arrivate le richieste di condanna da parte della procura di Palmi. Le immagini che state vedendo si riferiscono al giorno dell'arresto dei rapinatori seriali. Se imputati coinvolti nell'inchiesta, hanno chiesto il rito abbreviato. I restanti due, in questo caso Velio Borgese e Angelo Tarzia, sono stati già rinviati a giudizio scegliendo il rito ordinario e affronteranno il processo davanti al collegio del Tribunale di Palmi. Alla fine della requisitoria, con il rito abbreviato, il PM ha invece chiesto la condanna di Luigi Commisso a 13 anni e 6 mesi di carcere, Francesco De Domenico a 9 anni, Raffaele Ferrazzo a 10, Romina Laversa a 3 anni e 2 mesi, Carmelo Tavernesa a 8 anni e Lorena Tavernesa a 3. Il 15 febbraio toccherà agli avvocati difensori svolgere la loro arringa a tutela dei loro clienti. La banda, come si diceva, ha messo a segno una serie di rapine, da Polistena a Taurianova, Soverato a Cittanova, Cinque Frondi a San Giorgio Morgeto e Bovalino. In meno di un anno, dal settembre 2016 all'aprile del 2017, la banda ha svaliggiato gioiellerie, negozi di abbigliamento, ristoranti, rubando automobili e trafficando in droga. Come l'hanno definita gli inquirenti, si trattava di una banda di cani sciolti, di peones senza legami con l'andrangheta, ma che, secondo la procura di Palmi, disponevano anche di armi per compiere le rapine. E a volte si trattava di rapine anche violente nei confronti dei proprietari, come hanno riportato le testimonianze e le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali.